Ciao a tutti pagliacci e benvenuti ad una nuova ed improvvisa puntata di Cinema degli Eccessi che manco io sapevo di voler fare, ma l'uscita al cinema di Dogman ha un po' risvegliato in me la voglia di fare dei video su film singoli, o massimo su due o tre titoli. Fare dei video lunghi ed elaborati, vi dico la verità, mi diverte di più, ma mi sono accorto che richiedono davvero troppo tempo. Ad esempio, ora è da quando sono tornato dalla Cina che sto preparando un video sulle arti marziali di Hong Kong che spero uscirà settimana prossima. Prima di cominciare volevo dire che, come sempre, qualora vogliate questa maglietta che unisce Klimt al Dracula di Coppola potete andare su pampling.com e inserire il codice sconto shiva66 per avere appunto uno sconto del 15% su qualsiasi cosa decidiate di comprare. Ma veniamo al dunque, veniamo a questo Dogman di Matteo Garrone che uscito dall'esperienza internazionale con il bellissimo Il racconto dei racconti torna a Roma, nella periferia capitolina, e dirige un'opera vagamente ispirata dalla cronaca nera la storia di Ercanaro. O Ercanaro, forse Ercanaro. Romani è Ercanaro o Ercanaro, ditemi voi. Farò inevitabilmente degli spoiler, ma se solo avete letto gli eventi da cui è tratto non vi dirò nulla di nuovo, assolutamente. Dunque, cominciamo. Pietro De Negri, tolettatore per cani in via della Magliana, il 18 febbraio del 1988 uccise Giancarlo Ricci, un ex pugile che minacciava e picchiava De Negri, oltre che pretendere mazzette. Ambedue dediti all'illegalità, De Negri fu l'unico arrestato durante una rapina nel negozio adiacente al suo e alla sua uscita dal carcere il collega va sperperato tutto il malloppo, lasciando Pietro a bocca asciutta. Con la scusa di una rapina a degli spacciatori di cocaina, De Negri attira Ricci nel suo negozio e lo chiude in una gabbia per cani. Impizzato di bamba fino alle orecchie, la bamba e gli brucia il volto per poi stordirlo per amputargli le dita con le tronchesi, asportando naso, orecchie e genitali, e infine lo soffocò facendo pressione con una tenaglia. Non contento cominciò a inveire sul cadavere, infilandogli le dita recise nel culo e lavandogli il cervello con dello shampoo per cani. Almeno questa è la versione di De Negri, perché in realtà l'autopsia rivelò che tutte le torture inflitte erano state effettuate post-mortem e dello shampoo per cani non c'era alcuna traccia. Matteo Garrone nel suo film cambia i nomi, rende il tutto più cinematografico e non si concentra sulle torture ammesse dal canaro, limitandosi a fargli rinchiudere l'odiato nemico in una gabbia per cani e a tramortirlo con un piede di porco. La cronaca nera si trasforma dunque nella storia di Marcello, un tolettatore buono d'animo, il cui amore per i cani viene superato solo da quello verso la figlia e che come tutti nel quartiere viene tormentato da Simoncino, un gigante che sembra conoscere solo il linguaggio della violenza e che in realtà terrorizza tutti i negozianti della zona, i quali disperati sperano solo che qualcuno lo faccia fuori per i suoi modi che non rispettano nessuno. Marcello però pare avere un rapporto un po' diverso con Simoncino, crede nella redenzione, crede di poterlo ammansire come fa con i suoi cani. Di importanza centrale è infatti la prima scena in cui cerca di lavare un cane che in primo tempo aggressivo diventa poi tenero, ma come ben sappiamo gli uomini sono diversi dai cani e Marcello ne pagherà le conseguenze, finendo in carcere e non ricevendo la minima pietà da Simoncino, anzi scippa ancora ammazzate e viene additato come traditore da tutti i suoi amici negozianti. Il problema principale è infatti che lui conosceva il proprietario del comproro rapinato dalle avide mani del delinquente e che era adiacente al suo negozio di tolettatore. I temi del film non si limitano al banale confronto fallimentare tra essere umano e canide, ma propongono diversi spunti di riflessione. Partiamo da come viene concepito lo spazio periferia, ripreso da Garrone come un vero e proprio Far West, in cui ognuno è responsabile di se stesso. L'ambiente pare desertico e gli edifici in cui si ambientano le vicende sembrano isolate dal centro cittadino. Roma sembra distante migliaia di chilometri e in mezzo non ci stupirebbe affatto trovare del deserto. Ogni attività poi deve fronteggiare la minaccia rappresentata da Simoncino, con questi episodi di microcriminalità la denuncia a poco serve, dopo poco sarebbe di nuovo libero e ancora più incazzato di prima. La scelta dei negozi ovviamente non è casuale, tutti i colleghi di Marcello approfittano delle debolezze umane. Un comproro, una sala slot, quelle nuove attività che pullolano nelle nostre città ma che di certo non fanno bene. Quale a me c'è una sala slot ogni mezzo chilometro e non sto scherzando. Un altro argomento sempre presente nel cinema di Garrone è la sottomissione slash dipendenza che i personaggi instaurano tra loro. Simbolo assoluto è Peppino, l'imbalsamatore del meraviglioso film del 2002, ma anche Marcello e Simoncino non scherzano. Il secondo compra la bamba dal primo e non riesce a fare a meno di lui, nonostante poi lo manderà in carcere. Marcello invece pensa di poterlo cambiare, di poterlo ammansire come dicevamo prima, una sindrome da croce rossina che se ci pensate bene hanno anche delle donne quando si relazionano con delle teste di cazzo e pensano di poterli cambiare. L'ambivalenza del rapporto è anche qui fondamentale fino ovviamente al momento di rottura che nell'imbalsamatore era l'arrivo di Deborah e che qui è la rapina fatta male che porta Marcello in carcere. Un uomo integro che si rifiuta di fare la spia perché è convinto che nella profondità di Simoncino qualcosa da salvare ci sia. Un'aspettativa delusa che con l'esperienza del carcere diventa pura voglia di violenza. Come dice il nostro protagonista, lui ora è cambiato, non è più quello di una volta. Molto interessante è la scelta di Garone di non mostrarci cosa sia successo in carcere. Poco importa, la limitazione della libertà ad uno che non se la meritava poi così tanto provoca questo. Assistiamo solo all'ingresso dell'uomo in carcere con un piano sequenza di breve durata che già ci mostra tutto ciò che deve mostrare. Come abbiamo detto, Marcello viene cambiato dal carcere e la sua fiducia nel prossimo muta, simbolo di come la galera non sia adatta proprio per tutti i criminali. Anzi, non è adatta per nessun crimine, ma questo è un altro discorso. La vendetta del nostro protagonista comincia dall'ingabbiamento del nemico proprio in una gabbia per cani. Anche se per pochi minuti vuole trasmettergli cosa ha provato lui per un anno stando in un posto che non era per lui. Così come quella gabbia non è fatta per contenere Simoncino. Poco dopo il compimento della vendetta verso il finale c'è quella che secondo me è la scena più bella e significativa del film. Marcello, soggiogato dalle emozioni dell'omicidio e sicuramente anche dalla coca, vede nel campetto da calcio che una volta condivideva tutti i suoi amici giocare. Si sentono vagamente in lontananza le loro voci, le loro risa, e Marcello, conscio del fatto che loro non vedevano l'ora che Simoncino morisse, torna a prendere il cadavere per mostrarlo come trofeo agli altri, che però in realtà non sono mai stati lì. Era tutta un'allucinazione e l'efferato e vano gesto di Marcello diventa sempre più vano man mano che si va avanti nel finale. Un uomo che teneva all'amore dei propri vicini diventa assassino, un uomo che ha dato la sua vita alla cura degli animali diventa il più terribile dei criminali e anche l'unica, ripeto, vana soddisfazione che avrebbe potuto trovare, ovvero essere l'eroe dei suoi amici, diventa ciò che è esattamente un omicidio, punto, e basta, un evento ingiustificabile. Prima di concludere la recensione mi sento costretto, vista l'anima del canale, a spendere due parole sull'articolo della stampa scritto da Antonella Boralevi che si rifiuta di vedere il film, ma lo critica comunque, o meglio, né critica l'intenzione. La parte principale dell'articolo è questa, per il resto vi metto il link in descrizione. Non andrò a vedere Dogman perché penso, magari sbaglio, che una doppia tragedia come quella della Magliana del 1988 sia indagabile solo e soltanto senza mostrarla. Sia indagabile solo con le parole, senza la lusinga del corpo straziato, del sangue, delle viscere, e dei pezzi di uomo. Penso che mostrare torture e squartamenti come una forma di riparazione di un torto non aiuti nessuno. Né chi lo subiva, né chi lo ha inferto. E non so cosa possa pensare e come possa sentirsi violato l'assassino, oltre che la vittima. Però noi sappiamo che il cinema è arte, che Garrone è un grande artista, che forse sarà vittorioso a Cannes, che probabilmente gli spettatori occorreranno a frotte. Ma penso, magari sbaglio, che l'umanità sia da un'altra parte, lì dove abita la pietà. A parte che vedendolo, la metà delle cose che ha detto, si capisce che siano vane, che non abbiano significato, ma partiamo da un concetto semplicissimo. Perché la tragedia della Magliana dovrebbe essere diversa dalle altre? Il cinema da sempre mostra l'orrido della realtà, e forse, magari sbaglio, è peggio mostrare cosa avveniva nei campi di concentramento, piuttosto che con un singolo fatto di cronaca. Ma non credo che ci si permetterebbe di criticare, che cazzo ne so, il pianista di Polanski. Vogliamo restringere il campo? Possiamo tranquillamente interpellare lo Psycho di Hitchcock. Edward Gein venne arrestato solo tre anni prima dall'uscita del capolavoro del Maestro del Brivido. Mi chiedo se Antonella abbia da ridire anche contro zio Alfred, poiché per l'epoca Psycho era un'ammazzata sulle gengive molto peggiore di Dogman, che ha una violenza al quale siamo tranquillamente abituati. L'estetizzazione dell'efferatezza, che qui è comunque stata fatta con garbo e senza le esagerazioni di Pietro De Negri, non è mera e fine a se stessa. Ha un contesto che non va dimenticato, ma che la giornalista non conosce perché si è rifiutata di vedere il film. E sì, può aiutare tutti i temi del film che abbiamo visto, su cui si muovono i personaggi metà reali, metà di finzione e di Garrone, possono aiutare a comprendere come si vive in determinate situazioni, braccati dal pizzo, una terribile realtà mai scomparsa, che può aiutare anche chi è in queste condizioni a non sentirsi solo, ad avere il supporto di un intellettuale o comunque di un artista come Matteo Garrone. Qualcuno sa come mi sento, potrebbe dire qualcuno, qualcuno sa come mi sento, potrebbe dire un qualsiasi fan di Cinema degli Eccessi che vede una situazione in lui familiare portata sull'eschermo magari esagerata, magari grottesca. E come abbiamo visto dal finale, Garrone non vuole assolutamente elogiare o evidenziare la positività della vendetta. Senza interpellare filosofia e psicologia, credo che l'umanità dell'arte carantonella stia proprio in questo. Invece la pietà non bisogna provarla per nessuno. Magari sbaglio, ma è forse la sincera compassione di un uomo verso un altro uomo più sfortunato ad abbellire il mondo e a rendere grande l'arte. Dunque, questo era il mio parere sul bellissimo Dogman di Matteo Garrone. Sicuramente meno riuscito dell'Imbalsamatore di Primo Amore che sono due opere incredibili, ma un film assolutamente da vedere che soddisferà gli amanti del cinema italiano contemporaneo, ma anche gli amanti del cinema di genere degli anni che furono. È cinema puro, cinema crudo, cinema necessario non solo per i temi, ma anche per la messa in scena. Andrà, indubbiamente, nella top dei film del 2018. Io che a ripaglierci vi saluto e vi ricordo che se vedete meno video è perché sto scrivendo il libro di cinema degli eccessi che sono sicuro vi piacerà. Sarà una cosa classica ma molto particolare in alcuni suoi aspetti. Noi ci vediamo settimana prossima con un video dedicato alle arti marcelli di Hong Kong e poi chissà, vediamo se mi va di fare qualche altro video monofilm come questo. Bella regà che il cinema sia con voi. Grazie a tutti.